Cari! Cari, vieni! Cari, vieni! Cari, vieni! Ma dove sono i miei mobili? A mia casa. Voi altri, chiamateli un parodomeno e facetemi le portare, che poi vi regalo. Ma dove sono i miei mobili? Tutta lava che calò dalla montagna. Lo vedo. Non c'è altro. Per forza. Case, campi. Tutto distrutto dalla lava. Ma gente di strombola è forte assai, bella mia. Rifacciamo tutto. La terra... come... questa terra l'avevamo portata a noi, Cinova. Vieni. Ci andiamo tutto da capo. Cattere, vigne. Lasciami stare. Che cosa mi importa? Delle vigne... e della tua terra buona. Vuoi andare via da questa isola, maledetta? Anche quelli che sono nati qui sono andati via, lontano da qui! Oh! Ma che di te io?